Io devo capire attraverso, non lo so, o così, devo capire, no Gianchi, si parla, si parla e quando io parlo invece pesante, no, devo capire che forse non ti piace, forse, devo capire così, Cioè, non si può parlare? Non si può parlare? Capisci? Quindi, Alessandra, tu le hai chiesto ancora l'esclusiva? Sì, ho chiesto l'esclusiva, chiudo, ci può pensare, se uno ce la voglia non è che ci pensa così tanto, no, no, infatti ci penso proprio, ok, a posto, cioè non gliela dai l'esclusiva, anzi, chiude, bene così, va bene così, Sì, ci avrei risposta, sì, sì, no, no, va bene così, per me... Ma lo sapevo già, Maria, ero consapevole, capito? Sì, sì, hai vinto, hai vinto, anche te hai vinto. Eh certo che ho vinto. Quindi finì, se ti piace così... Grazie. 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 Grazie.